Dottoressa Antonella Petrella, l'asilo senile Argento Vivo ha inteso inaugurare una panchina rossa proprio per festeggiare questo evento. Sì, l'asilo senile Argento Vivo quest'anno si vuole unire al coro di tutti quelli che contribuiscono alla lotta contro questo bruttissimo fenomeno della violenza. Il nostro è solo un simbolo, ma se tutti quanti facciamo qualcosa si diffonde la cultura della non violenza. Il nostro quest'anno è stato mettere praticamente nella nostra struttura una panchina rossa a memoria delle donne che non ce l'hanno fatto e con la speranza da infondere alle donne che possono ancora farcela avendo il coraggio di denunciare e di uscire allo scoperto. C'è stata la lettura di una storia riferita proprio a una panchina rossa e devo dire che anche gli ospiti di questa struttura hanno dimostrato di gradire moltissimo. Quella della lettura della storia è un'attività che noi facciamo quasi quotidianamente, quindi sono anche abituati ad ascoltare questo genere di situazione. La storia ha voluto dare un senso alla panchina. La panchina è un'idea che nasce in Italia nel 2016, poi si diffonde in tutto il mondo, ma come principale obiettivo ha quello di ricordare chi non c'è più. La nostra panchina rossa ha come obiettivo ha quello di ricordare chi ce la può fare e chi ce l'ha fatta ed è dedicata a chi può fare qualcosa per uscire dal tunnel della violenza. Comunque complimenti da parte mia perché evidentemente la direttrice Carmen è un vulcano di idee, quindi in questa struttura si festeggia un po' tutto quello che accade, diciamo anche al di là di queste mura, proprio per far sentire queste persone alla fine partecipi di quello che accade nella società. Noi in questa struttura miriamo a celebrare la vita, a dare senso e a renderla il più possibile e gradevole. Carmen, la direttrice della struttura, ha una grande sensibilità, accoglie e soprattutto si sporca le mani in prima persona realizzando tante cose. Da una panchina rossa, perché è opera sua, ad appoggiare tutte le idee che possono nascere per rendere vivo un posto che notoriamente si pensa sia un posto in cui c'è più morte che vita. Invece nella nostra struttura la vita è sovrana, regna e deve essere celebrata.